che cosa avete combinato lo sai bene che due poliziotti non possono occuparsi niente scuse fatela entrare ciao perché ha bisogno di me sindaco puoi dirci per favore cosa hanno fatto questi due furfantelli ci sono stati approssimatamente otto morti in cui sono stati tutti smembrati bel lavoro ragazzi continuate così per caso era sarcasmo cosa ogni halloween uccide sempre più persone difficile dire se sia una cosa reale oppure no nessuno sa se uccide per davvero è solo apparenza e se questa notte non lo prendete vi farò sostituire da loro senta sindaco qualcosa di anomalo sta succedendo in città c'è un culto che gira bla 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 non mi interessa il tuo culto immaginario john ok mi hanno bruciato la casa casa tua è una polveriera lasci sempre la caffettiera accesa voglio che risolviate questo problema stanotte andate andate via cosa dovremmo fare ora dobbiamo concentrarci su bob prima che uccida qualcuno alzati illness ma remember il suo ventoso terrificante messaggio sinistro è in peso sinistro alzati alzati alsi 앟 vero arex lo so descontracchic lo so tesoro vai a prepararti Sì! Halloween? Sei pronto per un giorno terrificante? Oh, lasciami controllare. E tuvi, vieni prima a me? Sei bene che oggi non esco di casa. E smetti di prendermi in giro se sai cosa ti fa bene. Sono pronto. Ok, passo da te. Hey! Ehi, divertitevi voi due E tornate con molti dolcetti Oh, mi manca fare dolcetto scherzetto Potrei andare con Jun Polizia? Oh, la mia voce era molto diversa in passato Chiediamo il vostro aiuto per cercare Dexter Erotov Non abbiamo ancora informazioni sul suo aspetto Ehi, ragazza C'è un tipo fuori, eh? Felice che tu stia finalmente provando qualcosa di nuovo Sei sparita per tutto tempo, fra Io sono seria! Cosa? Sto parlando del tipo demone che mi ha aggredita molto tempo fa Forse è solo strano, Lila Lila Pronto? Ti piacerebbe un piccolo dolcetto? Ehi, lo sapete che è il mese sinistro? Che hai intenzione di fare? Condirmi? A Abbiamo ricevuto una chiamata da qualcuno di nome C'è il maniaco, è qui Signorina, qui non c'è nessuno Sta andando per mio figlio Ehi, hai bisogno di un cazzo Signorina, si calmi Cos'è che non va nella tua testa? Cos'è che sei in ritardo? Hai cercato di uccidere Io non ho fatto niente perché mi hai colpito Vieni qui brutto cef Dolcetto scherzetto Scusatemi ma... Mi avete appena rotto la porta Ok, 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 va bene Sì Nel nome di Dio vai via da quel corpo demone Andiamo nel bosco Andiamo nella casa infestata Sì Benvenuti nella mia dimora infestata signori Come potete vedere Io sono un velo vampiro Ora entrate Che la fortuna vi guidi Ma salve mio caro amico demone Vorresti essere spaventato? Lo sapevi che se mangi il cervello umano Sembra è una malattia assimile alla buca pazza Cosa? Ehi, guarda Sembra così ideale È incredibile Ma andiamo a prendere altri dolcetti Miss Lila, resti in casa e chiuda tutte le porte Ma mio figlio e il suo amico sono fuori in giro Non si preoccupi Miss Lila Li cercheremo ora Che tipo di costumi indossavano? Allora, mio figlio indossa un costume da scheletro Potrebbe essere più specifica? Il suo amico ha un costume da zucca Oh no Sì Solo tenga le porte chiuse E va bene Ma per piacere Siate veloci Ci stiamo lavorando Giunna, vieni qui Ho bisogno del tuo aiuto Ricevuto, sorella Hai un costume? No! Cosa possiamo fare adesso? Oh, c'è un posto in cui possiamo avere le caramelle Carino! Ehi, bambini Oh, ehi, signor Frank Ci può portare il negozio delle caramelle? No, bambini Sono in vacanza ora Salve, signora Cosa le piacerebbe? Non tu Dammi una di tutte le caramelle E raddoppiala Ehm, va bene Rick, aiutami a portare due caramelle di ognuna Ok E siate veloci Oh, no Oh, no, 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 no Volevamo dei bastoncini di zucchero Non oggi Mi avete portato moltissimi problemi, lo sapete? Non l'abbiamo fatto Ho avuto degli incubi su di voi Mi avete dato dello zucchero Mi avete attaccato la vostra bambola E non molto tempo fa Ci fu una sparatoia in città In cui ho dovuto pulire per tutto il giorno Che vienero del sangue finto Finto, no Voi mi avete portato sempre nei guai Vedi? È un guaio quello Bambi, perché vi stai seguendo? Non lo so, ci seguiva Oh, forse volevo un bastoncino di zucchero Cosa? No, ritorna Kevin, stai bene? Andiamo fuori, bimbi Veloce Wow, wow, almeno puoi bussare Volevamo solo un bastoncino di zucchero Kevin Noi non sappiamo perché ci stia Tenete Davvero Grazie Kevin Fanno così tutti i giorni Ehm, più o meno Wow, fra 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 Qual è il tuo problema? Aspetta Ci stavi per uccidere? No Ti stavo per dire che i bambini stanno rubando le cremelle Oh me Sarebbe molto più facile se indossassi un vero costume Ah, sapete La mia famiglia non vuole che esca con voi ragazzi E' difficile Lo sai che è per la mia sorellina Puoi ottenere un costume qui Oh, bella idea, Robert Cosa? Avete qualche problema? Avrei un brutto quarto d'ora Beh Andate via Cosa sei? Un rapper Non è spaventoso Ehi, aspetta 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 Dove credete di andare con tutte quelle caramelle? Per prendere più caramelle Io penso che Oh no, non lo farai Non è un costume No, no, aspetta 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 Ragazzi Di niente, Robert Pensate che possa bastare Possiamo prendere più caramelle E poi Sapevate che morti e colture e consumano il sangue come cibo E ciò include anche i umani Ah, dannazione È tutto ok, Robert Ne prenderemo delle altre Sei in grossi guai, Reynold Cos'è quel costume? Rapper? Potevi vestirti con un costume elegante Come un vampiro Entra nell'auto, Reynold Non dovresti uscire con dei playbay come questi Posso almeno salutarli Sai come sono Eh, va bene Spero che questo aiuti Ciao ragazzi Sì Vuole giocare al nascondino Oh, come i film horror Esattamente E se vincete Avrete più caramelle Yeee Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Nove Dieci Deci Sta Quattro Terrificio Quattro Quattro Embracet Andrà tutto bene Lila, li troveremo. Mamma, perché non hai un costume? Grazie a Dio, state bene. Andiamo, torniamo a casa. Mamma, stiamo giocando. Ma cosa giocate? Stiamo giocando a nascondino con un grosso tipo rosso. Oh no, si ha traversato la strada senza guardare! Che show emozionante! Grazie a Dio, si effetti! State tutti bene? Potete portarci a casa. Ce l'abbiamo fatta! D'accordo, ora avvertiamo il sindaco. Dov'è il corpo? Lasciaci in pace! Wow, che stai facendo? Non sai con chi ti stai mettendo. Voi non sapete niente di niente! Non potete scappare da me! Vi seguirò finché voi due non moriremo! Tu... pensi che sia morto? Scusateci per quello. Portateci a caso e basta, vi prego! Per piacere. Pronto? Patti, sì. Abbiamo un corpo per te. Sapete come ammorbidire la carne? Tu bastardo! Cosa? Dove? Sve? Ecco che... Ehi, nonno, Susie, guardate cos'ho. Oh, hai fatto un bel lavoro, figliolo. Dove li hai presi? Posso averlo un po'? Grazie mille, davvero. Già, non c'è di che. Scusi, possiamo cercare mio figlio? Sì, sono preoccupata ora. Ehi, mamma! Come hai festeggiato Halloween? Oh, aspetta che te lo faccio vedere. Guarda, io ero così alla tua età. Oh, anche tu hai giocato a nascondino con lui? Chi? Questo tipo. Mamma, per caso lo conosci? Fa tutto bene, mamma. Tieni, una caramella. E guardiamo un film horror. È solo la mia immaginazione. Non può essere lui. Sì, è solo la mia immaginazione. E guarda la mia immaginazione. E guarda, io ero così alla mia immaginazione. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti